Ben ritrovati da TVL per questo articolo 21 speciale elezioni, lo spazio che abbiamo dedicato come televisione a conoscere programmi e candidati degli 11 comuni della provincia di Pistoia chiamati al voto alle elezioni dell'8 e del 9 di giugno. Una tornata elettorale importante, 11 realtà del nostro territorio, 3 delle quali per il numero di abitanti hanno la possibilità di arrivare ad un secondo turno, le altre invece vedranno la definizione del primo cittadino già a conclusione della votazione, quindi nella giornata di lunedì si conosceranno. Sono 11 comuni, dicevamo, e iniziamo con il comune di Monsummano. Prima di cominciare però con dare la parola su temi della vita della comunità di Monsummano ai candidati qui con noi in studio, due parole. La prima è quella di ricordo da parte nostra del nostro direttore Luigi Bardelli che ci ha lasciato da poco e dal quale abbiamo ereditato l'onere e l'onore di continuare la televisione che lui ha voluto e alla quale ha dato un'impronta importante, quello dell'ascolto e quella del servizio alle comunità. E dunque vogliamo ricordarlo anche in questa occasione. La seconda è la lettura di una lettera che ci è arrivata da parte di uno dei candidati che ha scelto di non essere presente qui a questo confrutto. E quindi la leggiamo anche per spiegare dalle sue parole le motivazioni ai cittadini che non lo vedranno seduto qui in questa trasmissione. E dunque il candidato è Paolo Venturini, candidato del centrodestra, che così ci ha scritto. Desidero comunicare agli organi di stampa, alle associazioni e ai cittadini che non parteciperò a nessun confronto o dibattito con gli altri candidati alla carica di sindaco di Monsumano Terme. Questa non è una decisione dell'ultimo momento, ma una precisa determinazione personale comunicata alle forze politiche che sostengono la mia candidatura, prima ancora della mia investitura ufficiale. Io sono una persona pragmatica, un manager che mette a disposizione della sua gente la propria esperienza professionale per realizzare un progetto complessivo di rilancio della città che ama. Nient'altro, non sono un politico di professione, né sono compiacente alle liturgie della politica, perché ritengo che un dibattito tra candidati sia solo uno sterile confronto tra opposte tifoserie con i problemi dei cittadini sullo sfondo, irrisolti da anni. Questo non significa che non mi renda disponibile a incontri con le associazioni di categoria, con i circoli e con gli enti. Parlo ogni giorno con imprenditori, commercianti, rappresentanti di volontariato, cittadini e sono perfettamente consapevole dei loro problemi. Forse è un limite dettato dalla mia professione, forse sono solo un monsumanese idealista, ma ritengo che guardarsi negli occhi e cercare di risolvere insieme i problemi delle persone sia più utile che rispondere a domande preconfezionate, uguali per tutti, con una manciata di secondi per rispondere. Accade ogni cinque anni e non cambia mai nulla. Il mio programma elettorale è disponibile alla sede di Monsumano del centro-destra e poi sul sito internet del candidato. Naturalmente a noi dispiace l'assenza, perché abbiamo messo a disposizione questo momento, perché proprio siano i cittadini a conoscere dalla voce dei candidati a sindaco, coloro che corrono per governare il comune e la loro città, sentire direttamente dalle loro parole cosa intendono fare rispetto alle questioni del territorio. Questo era l'inizio dovuto, io vi ringrazio anche per la pazienza che avete avuto, ma iniziamo subito e entriamo nel vivo con i quattro candidati che vi presento nell'ordine e sono alla mia sinistra Romolo Papaleo, candidato per la lista Forza del Popolo, benvenuto dall'articolo 21, Alberto Graziani, candidato del Movimento 5 Stelle, benvenuto anche a lei, e Angelo Di Bianca, candidato del Partito Comunista Italiano e Simona De Caro, candidata del centro-sinistra per il comune di Monsumano. Dunque queste le dovute presentazioni, una sedia è vuota e andiamo, entriamo nel vivo. Le regole del confronto che ci siamo dati, tre minuti a risposta per ogni quesito che porrò ai candidati e poi un minuto finale nel quale rivolgersi direttamente a voi che siete a casa. Dunque cominciamo con una prima riflessione che è in linea con il DNA della nostra televisione, l'attenzione agli ultimi, l'attenzione a chi è in difficoltà. I dati dell'ultimo rapporto della Caritas, della diocesi di Pescia e di Pistoia, che quest'anno hanno presentato i dati insieme, documentano un aumento importante di persone che si rivolgono ai servizi sociali, alle strutture di aiuto, alle persone in difficoltà. E quindi vorrei chiedervi ai candidati come intendono muoversi sul fronte dell'aiuto da queste persone, come il Comune può essere accanto a chi è più in difficoltà in questa fase, così complessa e difficile, non soltanto per il territorio di Monsummano. Romolo Papaleo. Buonasera. Intanto mi preme dire che noi siamo un partito giovane, nuovo, e quindi di questi problemi, siccome siamo un partito giovane, sembra che noi non ce ne occupiamo mai di questi problemi, invece noi siamo molto preoccupati per questo dato. Siamo un partito di ispirazione sovranista in quanto siamo al di sopra, siamo per l'uscita dell'Euro e per l'uscita dell'Europa, perché noi riteniamo che l'Europa e l'Euro hanno indebolito le famiglie, hanno impoverito le famiglie e questo è un primo dato. Il secondo dato è fatto da questo tipo, perché noi siamo un partito di ispirazione cristiana e molto attenti sul sociale, quindi il sociale noi lo guardiamo con attenzione e noi facciamo di tutto, perché questa gente che ha problemi e che ha necessità di risorse, necessità per affrontare tutti i giorni la vita quotidiana, noi saremo a fianco di questa gente, noi siamo a fianco dei nostri concittadini proprio per risolvere i loro problemi, per risolvere i problemi di tutti e quindi ispirandoci, diciamo così, al cristianesimo, noi siamo sempre a favore degli ultimi. Grazie. Ha ancora un minuto e mezzo di tempo, se vuole approfittarne. Sì, potrei dire ancora questa cosa, perché noi, diciamo così, io non sono un politico di professione, chiaramente, e quindi mi trovo un po' in, diciamo così, non trovo le parole giuste per dire, però ecco, quello che a me preme è che noi siamo un partito del popolo e quindi il partito che si ispira al popolo fa tutto per il popolo, quindi niente per noi, è tutto per il popolo. Va bene così? Va bene così. Ok. Allora, lasciamo sfumare questi ultimi secondi che il candidato ha scelto di non sfruttare, quindi chiedo ad Alberto Graziani, dunque, sui temi del sociale e delle aiuti alle fasce deboli, come a volte vengono definite. Voi cosa intendete fare? Allora, l'esperienza mia professionale medica mi ha portato per lavoro, oltre alle esperienze che ognuno di noi può incontrare nella vita e nella propria famiglia, ma quelle sono veramente una cosa del cuore personale, al contatto diretto con momenti di bisogno, di sofferenza, di capacità, abilità differenti da quelle usuali, da quelle a cui siamo abituati, che devono essere accolte e valorizzate. Lo spirito con cui affrontiamo queste lezioni voglio, per potermi ci sentire bene, che sia uno spirito di fermezza nei nostri valori, ma anche di dialogo e condivisione. E venendo proprio ai quartieri abbiamo delle realtà funzionali, abbiamo il banco alimentare, da opposizione c'è stata la possibilità di essere promotori, cosa che poi è stata approvata, della consulta per le disabilità. momenti di dialogo reale dove la partecipazione di chi è nel territorio cittadino permette di portare a conoscenza di chi amministra o anche di chi fa opposizione quelle che sono le necessità. Creare dei sistemi digitali o anzi diffondere modelli digitali di aiuto per il pass auto per chi ne ha diritto, sembra una cosa molto semplice, ma quando una persona deve iniziare a muoversi e aggiunge a difficoltà già esistenti, difficoltà burocratiche, che a volte anche a livello comunale possono trovare un superamento, un aiuto, un dovuto aiuto, mi permetto di aggiungere, ecco noi ci siamo perché nella concretezza di azioni che nascono da questo dialogo sento che si può veramente portare quel valore aggiunto che è quello della quotidianità di ogni giorno. Poi ci sono anche altre cose che possono essere fatte per valorizzare ulteriormente ad esempio il banco alimentare, il banco alimentare potrebbe prendere addirittura grazie alle associazioni che lo rappresentano, un'entità coordinata su un modello valdinievole. Il nostro ideale è quello di andare addirittura oltre il confine del comune e una municipalità può farsene promotrice e può portare questa istanza perché non è che chi abita poco distante e magari ai genitori che lavorano a Monsumano sia avulso dal contesto. La piana valdinievole ha una sua coerenza e anche questo è uno dei temi locali che ci stanno a cuore. Quindi in tutta questa complessità credo che si parte veramente da dialogo e comprensione. Grazie. Angelo Di Bianca, queste questioni come intendete affrontarle? Sì, come ho già detto lei sono rappresentante del Partito Comunista Italiano questo partito che è stato rottamato da Achille Occhetto negli anni 90 e noi abbiamo fatto risuscitare qualche anno fa. Già il nome stesso Partito Comunista Italiano in tante persone evocherà le sue finalità e quindi la difesa dei lavoratori, la difesa dei giovani disoccupati, dei disabili, degli anziani. quindi noi pensiamo che la maggior parte delle risorse dei comuni devono essere rivolte verso queste persone come innanzitutto la casa, le case popolari a aumentare i finanziamenti in questo settore ed è questa della, diciamo, della povertà è stata sempre maggiore dei cittadini italiani è un problema che è aumentato negli ultimi anni e noi sappiamo che sono 5,7 milioni di persone attualmente che vivono in povertà assoluta e degli ultimi dati circa 11 milioni sono alla soglia della povertà e questo è anche a causa dell'inflazione che c'è stata negli ultimi anni e dagli ultimi dati Istat che sono stati resi noti pochi giorni fa abbiamo visto che mentre gli stipendi sono aumentati del 4,7% invece l'inflazione è aumentata del 17% quindi questi valori ci dicono come il potere d'acquisto degli italiani si sia sempre più ridotto negli ultimi anni e brevemente voglio dire che visto che nel 23 c'è stata l'inflazione di un pochino, diciamo, rispetto agli altri anni il governo si fa avanti a dire che gli stipendi e gli aumenti, c'è stato un aumento di stipendi nell'ultimo anno però questo piccolo aumento nello stipendio non riuscirà mai a compensare la perdita che c'è stata negli anni precedenti quindi oltre alle case popolari chiaramente poi bisogna potenziare servizi di assistenza verso le persone anziane e tutte le persone in sofferenza Grazie Chiudiamo questo primo giro di domande con Simona De Caro Sì, allora il tema del sociale è un tema sul quale la nostra amministrazione ha avuto sicuramente un'attenzione particolare come già anche le precedenti perché uno dei principi cardine di una società che funziona secondo noi è quella di non lasciare indietro nessuno e quindi ci sono noi facciamo tutti gli anni il bilancio di previsione in collaborazione anche con le associazioni confrontandosi con i sindacati proprio per cercare di fare un ragionamento che possa avere e possa diciamo puntare l'attenzione anche sulle fasce veramente più fragili Abbiamo messo nel programma un punto a cui teniamo tanto e sul quale abbiamo fatto un primo piccolo passo ma che avrà bisogno veramente di essere sviluppato ed è quello di mettere su insieme al tavolo la consulta della disabilità insieme con l'SDS con le associazioni di categoria e anche con il centro dell'impiego e quindi iniziare un percorso per inserire nel mondo lavorativo ragazzi con disabilità intellettiva perché il dopo di noi credo che sia un tema veramente di grandissima attualità per il quale le amministrazioni dovrebbero fare il possibile anche per mettere in campo tutto ciò che è possibile affinché le famiglie non si sentano lasciate sole e quindi su questo aspetto c'è anche il co-housing dopo di noi naturalmente sono progetti che sono importanti se anche noi come amministrazione non siamo lasciati sole ma io so che possiamo contare su una società della salute estremamente attenta e quindi questo è un aspetto importante e poi proseguire il lavoro veramente immenso che stiamo facendo come amministrazione sul proprio aiutare tutte le fasce fragili con abbiamo ha detto prima il candidato del Movimento 5 Stelle l'emporio solidale che è veramente una realtà che funziona molto attraverso la messa a disposizione delle case popolari quindi insomma diciamo un settore per noi molto attenzionato ecco grazie facciamo un break abbiamo finito questo giro di riscaldamento restate con noi ci vediamo tra pochissimo grazie a tutti 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 Grazie a tutti.